Ariete, questa è una settimana molto buona, l'amore torna protagonista nella vostra vita. Toro, questa settimana promette felicità e incontri che potrebbero diventare amori importanti. Gemelli, è una settimana fantastica, se state cercando ancora l'anima gemella giocate pure. Cancro, sarete tutti molto concentrati sulla famiglia, sulla casa e sugli affetti. Leone, in campo lavorativo molte cose iniziano a schiarirsi. Vergine, a causa di alcuni pianeti bisbetici trascorrerete molte giornate con il cattivo umore. Bilancia, iniziate questa settimana come innamorati sotto le cure di venere, fortunati nel settore lavorativo. Scorpione, prima di buttarvi a capofitto negli affari e nella carriera fate un controllo medico. Sagittario, l'egogentrismo aiuta molto nel lavoro, ma negli affari di cuore c'è sempre qualcosa di Giove, vostro padre astrale. Capricorno, le donne del segno devono evitare il trucco pesante, il viso deve apparire rilassato, la pelle naturale e pulita. Acquario, se vi piace una persona dovete fare il primo passo, approfondire la conoscenza. Pesci, prendete iniziative che richiedono sicurezza di sé, programmazione curata nei minimi dettagli. Pesci, prendete iniziative che richiedono sicurezza di sé, programmazione curata nei minimi dettagli.